Accettare di sedersi sulla panchina giallorossa non è mai una scelta semplice. Il calcio a Roma lo si vive in modo passionale e le aspettative della tifoseria sono sempre alte. Sulla panchina dell'Olimpico prima di Fonseca si sono seduti 56 tecnici. Tra tutti questi ci sono stati alcuni che sono entrati nei cuori dei tifosi come per esempio Carlo Mazzone e altri che invece hanno deluso le aspettative della piazza. Proprio in questi casi la domanda è sempre la stessa. È solo colpa dell'allenatore? Probabilmente no. Ma ovviamente quando le cose non funzionano il tecnico è colui a cui vengono addossate la maggior parte delle colpe. Spesso e volentieri infatti non si valuta adeguatamente l'operato della società e la rosa messa a disposizione. Bisognerebbe studiare il quadro completo anche se è in dubbio che gli allenatori di cui andremo a parlare oggi una volta che si sono messi alla guida della squadra giallorossa hanno fallito portando la Roma a situazioni disperate. A volte anche ad un passo dalla retrocessione. Correva l'anno 1992 quando il neopatron Giuseppe Ciarrapico decide di non confermare sulla panchina giallorossa Ottavio Bianchi. Allenatore bresciano arrivato nel 1990 che nonostante la vittoria della Coppa Italia e la conquista della finale di Coppa UEFA non aveva mai legato con la tifoseria. Al suo posto viene scelto il mitico Vujedin Boskov, allenatore serbo che aveva portato la Sampdoria a vincere due Coppe Italia, una Coppa delle Coppe e soprattutto lo scudetto nella stagione 90-91. Un personaggio incredibile che con il suo stile e la sua ironia è diventato nel tempo l'icona del calcio italiano tra gli anni 80 e 90. Famosissime infatti le sue interviste e soprattutto alcune sue celebri frasi. Finito il suo ciclo vincente a Genova arriva a Roma nell'estate del 1992 tra mille proclami. Quello che aveva ottenuto in blu cerchiato aumenta le aspettative della tifoseria giallorossa. Il presidente però non sembra in grado di costruire una grande squadra dato che cede Rudy Völler ritenendolo troppo vecchio e la bandiera Sebino Nela. Il campionato inizia nel peggiore dei modi. All'Olimpico davanti a 54.000 spettatori infatti la Roma perde 1-0 contro il Pescara e Boskov, grande allenatore qual era, non trova nessuna scusa. Noi abbiamo giocato male e questo altro non ha isplicazione. Nelle successive sei gare due sconfitte, due vittorie e due pareggi non migliorano la situazione che anzi peggiora l'ottava giornata quando sempre in casa la Roma viene sconfitta per 3-2 dal Brescia. Una partita che fa sprofondare la squadra di Boskov. Si più volte i giallorossi si trovano invischiati nella lotta per la retrocessione. Alla penultima partita del girone da data, in una partita in casa contro la Sampdoria, i giocatori del serbo sono chiamati ad una grande prestazione per provare a risalire la classifica ma la gara si conclude con un opaco 0-0. La Roma in quel momento si trova al terzultimo posto e la tifoseria parte con la contestazione a tecnico, giocatori e società. La paura di finire in serie B inizia a farsi sentire. Tutti si domandano se Boskov verrà sollevato dall'incarico. Verdone, il comico romano tifoso giallorosso a fine gara però sembra incolpare più la dirigenza per come è stata assemblata la squadra. Io credo che diano tutto però la squadra è quella che è. Da quel momento però le cose migliorano leggermente. Complici 3 vittorie e ben 12 pareggi i giallorossi riescono a concludere il campionato in decima posizione scongiurando la retrocessione. Ai quarti di finale escono contro il Borussia Dortmund dopo aver vinto la gara d'andata in casa e in Coppa Italia arrivano in finale dove trovano i Granata di Mondonico. Proprio quella partita potrebbe far svoltare la stagione soprattutto a Boskov ma dopo aver perso in campionato con gli stessi avversari in casa per 5 a 4 la Roma si ripete a Torino. La gara d'andata si conclude con una sconfitta per 3 a 0. La partita di ritorno all'Olimpico è incredibile. La Roma segna subito poi il Toro pareggia. Nel secondo tempo ci sono altri 5 gol in 20 minuti ed il tecnico ad un certo punto della gara viene inquadrato mentre ride. Sembra sapere che quella finale così folle avrebbe decretato il suo destino nel bene o nel male. La Roma vince per 5 a 2 iludendo i suoi tifosi di poter compiere l'impresa e quel giorno termina l'avventura di Boskov sulla panchina giallorossa. Il mitico allenatore serbo a Roma non fece bene e venne contestato più volte ma ancora oggi il tutto gli viene perdonato per un semplice motivo. Il 28 marzo 1993 fece esordire Francesco Totti. Nella stagione 1996-1997 Franco Sensi sostituisce l'amatissimo Carlo Mazzone con Carlos Bianchi. Allenatore argentino con un palmarès di tutto rispetto, svariati campionati nazionali, Coppa Libertadores e soprattutto la Coppa Intercontinentale del 1994 vinta contro il Milan. A Roma infatti questa volta sono sicuri, è stato ingaggiato un allenatore vincente. Con lui arriva anche il difensore centrale Trotta e Damiano Tommasi. L'inizio di stagione nonostante lo scivolone in Coppa Italia contro il Cesena è convincente. Due vittorie in campionato e tre reti rifilate alla Dinamo Mosca ai 32esimi di finale di Coppa UEFA. Ma il 21 settembre le cose cambiano. In una partita in casa contro la Samp la Roma passa in vantaggio ma poi subisce la rimonta. Perde 4 a 1 con una doppietta di un giovanissimo Montella. Da lì nonostante una vittoria contro il Milan iniziano i guai. In campionato la squadra non convince così come in Coppa UEFA. Proprio in questa competizione infatti i giallorossi vengono eliminati ai sedicesimi di finale contro i non irresistibili tedeschi del Karl Suhe che li battono per 3 a 0 l'andata. Invece nel finale della prima parte di stagione la sconfitta contro l'Atalanta in casa fa capire che sarà un altro campionato non all'altezza. Le cose tra l'altro potrebbero anche andare peggio perché Bianchi non vede di buon occhio Totti. Anzi lo considera un giocatore qualunque. La sensazione è che può perfino farne a meno. E infatti nella capitale giravoce che Francesco possa fare le valigie. Lo stesso Totti in futuro su Bianchi dirà pensava fosse uno scansa fatica raccontando di aver rischiato di andare alla Sampdoria proprio in quel momento. Alla fine Totti rimane ma le cose non migliorano e nel girone di ritorno dopo un sonoro 3 a 0 contro la Juventus la panchina dell'argentino è in bilico. La squadra lotta per non finire in zona retrocessione e la sconfitta Cagliari per 2 a 1 condanna Bianchi. Franco Sensi lo esonera per gli scarsi risultati e soprattutto per non essere riuscito a dare un'impronta alla squadra. Squadra che si salverà con grosse difficoltà a poche giornate dal termine del campionato. Bianchi come riportato sull'applicazione OneFootball soprattutto per aver messo a rischio il proseguo della carriera di Totti rimane uno degli allenatori meno apprezzati dalla tifoseria giallorossa. La stagione 2004-2005 è disastrosa per la Roma. L'addio di capello per sedersi sulla panchina bianconera viene vissuto come un tradimento e al suo posto arriva Cesare Prandelli che già prima dell'inizio del campionato deve lasciare l'incarico a causa della malattia della moglie. Al suo posto viene chiamato Rudy Wöller esonerato dalla nazionale tedesca per il fallimento agli europei. Le cose si mettono subito male. In Champions contro la Dinamo Kiev nella fase a gironi dagli spalti viene colpito l'arbitro con un oggetto che porta la sconfitta a tavolino. In campionato arrivano le incredibili sconfitte contro il Messina per 4 a 3 e contro il Bologna per 3 a 1. Bastano e avanzano quei pessimi risultati ottenuti in 25 giorni e Wöller anticipa la società dimettendosi entrando di diritto nella categoria dei peggiori allenatori della Roma. Franco Baldini sceglie quindi Luigi Del Neri, fresco di licenziamento dal porto a causa dei malumori dei giocatori più rappresentativi. Insomma, non un buon segno dato che lo spogliatoio giallorosso è a dir poco in subbuglio. Parte con una vittoria ed un pareggio e poi iniziano le sconfitte. A metà novembre dopo solo un mese si parla già di un nuovo clamoroso cambio in panchina. La Roma perde a Reggio Calabria e spuntano i primi striscioni che recitano. Arridatece la Roma. La squadra va ad un solo punto dalla Serie B e la situazione è tesissima. Del Neri probabilmente in serie a difficoltà decide di non metterci la faccia e diserta la conferenza stampa. Totti dice è il momento più brutto da quando sono alla Roma. La rosa però non è da zona retrocessione. Dieci punti in quattro partite risollevano la squadra. Fino al derby perso per 3 a 1 il giorno dell'epifania. Da lì pochi alti e tanti bassi. A marzo c'è l'attesissima sfida con la Juventus. Nella capitale tornano i traditori Capello, Emerson e Zebinà. Del Neri incalzato dai giornalisti sull'argomento risponde. Non sono abituato a prendere posizioni nette nella mia vita. Il popolo giallorosso non la prende bene. La Roma perde con la Juve per 2 a 1 e 3 a 0 la gara successiva a Cagliari. Del Neri chiaramente provato, anticipa anche lui la società. A fine della partita contro i Sardi presenta le dimissioni. I tifosi esultano ma la stagione rimane tra le peggiori della Roma in Serie A. In una sola stagione si sono susseguiti due dei peggiori allenatori della storia della Roma. Insomma è un dato di fatto che quella piazza così complicata non fa per tutti. La proprietà della Roma passa dai sensi ad un'accordata di imprenditori statunitensi. È un momento storico per la società giallorossa. I nuovi proprietari nella stagione 2011-2012 vogliono attuare una vera e propria rivoluzione. Vogliono tornare a vincere e vogliono farlo tramite il bel gioco. A Franco Baldini e Walter Sabatini viene affidato l'incarico di trovare gli uomini giusti. In due infatti optano per un cambio in panchina e si durano Montella che qualcosa di buono nella capitale lo aveva fatto. Come molti pensano, se si vuol creare un'idea di gioco offensiva basata sul possesso palla, si sa dove bisogna andare a guardare. A Barcellona. Infatti viene ingaggiato un po' sorpresa Luis Enrique, tecnico spagnolo proveniente dalla seconda squadra del Barça. La sua idea di gioco è quella del tiki-taka. Tanto possesso palla in orizzontale, tanta qualità e tanto pressing alto. Per farlo servono gli interpreti giusti e infatti anche la squadra viene rivoluzionata completamente. Arrivano, giusto per citarne alcuni, Stekelenburg, Lamela, Pjanic, Jose Angel, Gago, Borini, Bojan e Osvaldo. Alla prima conferenza stampa il tecnico spagnolo annuncia. Farò calcio spettacolo, voglio una Roma vincente. I tifosi ci sperano, ma già ad agosto sorgono i primi dubbi. La Roma infatti viene eliminata dall'Europa League dalla non irresistibile squadra slovacca dello Slovan-Bratislava. Il campionato invece parte tra alti e bassi fino alla sconfitta contro il Milan in casa per 3-2. In quel momento si inizia a capire che sarà un'altra stagione non esaltante. Proprio alla fine di quella gara contro i Rossoneri, Luis Enrique dichiara. Non siamo una squadra, punto. La colpa magari è mia, forse ho sbagliato formazioni. Le successive sconfitte contro Udinese e Fiorentina iniziano a far storcere il naso alla tifoseria che fino a quel momento era stata dalla parte del tecnico spagnolo. A dicembre si parla già di addio, ma qualche buon risultato dà fiducia all'ambiente. Il gioco però non convince quasi mai. Gli interpreti non sembrano essere quelli giusti per proporre l'idea del tecnico e infatti il risultato si vede sul campo. Nella seconda parte di campionato le cose vanno malissimo. In Coppa Italia vengono eliminati ai quarti per 3-0 dalla Juventus, mentre in Serie A poco dopo a Bergamo i giallorossi vengono umiliati per 4-1, dove tra l'altro De Rossi viene spedito in tribuna per un ritardo alla riunione tecnica. Subito dopo la Roma perde anche il secondo derby della stagione. La squadra sprofonda in classifica e si ritrova a lottare per un posto in Europa League. A cinque giornate dal termine si capisce che l'avventura dello spagnolo sta per terminare dopo una sonora sconfitta per 4-0 contro la Juventus. Luis Enrique dopo quella gara dice, serve uno psicoterapeuta. Il finale di stagione è un'agonia in campo e fuori. Il tecnico conquista il settimo posto e dopodiché decide di lanciare l'incarico con queste parole. Sono stanco, ecco perché lascio Roma. Questa è una piazza fantastica, ma ho bisogno di più aiuto. Una frecciata alla società che in agosto aveva rivoluzionato la squadra per aiutarlo a portare la sua idea di gioco. Che a Roma i tifosi dicono di non aver mai visto. Subito dopo il disastroso anno di Luis Enrique, alla guida del club arriva il presidente James Pallotta. L'intenzione è quella di ridare entusiasmo all'ambiente e si punta su un ex particolarmente amato, ovvero Zeman. Il boemo, già allenatore dei giallorossi in precedenza, viene scelto nuovamente grazie all'incredibile promozione conquistata l'anno prima con il Pescara di Verratti, Insigne ed Immobile. Le aspettative, visto i risultati ottenuti e il gioco espresso con gli abruzzesi, sono alte e il tecnico arriva dichiarando «Vogliamo regalarvi un sogno». La speranza è che gli orrori della stagione precedente saranno presto dimenticati grazie al suo calcio spumeggiante fatto di verticalizzazione e di inserimenti. In campionato, però, le prime tre partite sono l'immagine della stagione. Pareggio contro il Catania in casa per 2-2, vittoria contro l'Inter a San Siro con un convincente 3-1, per poi continuare con una deludente sconfitta all'Olimpico contro il Bologna. Insomma, sembra di essere sulle montagne russe. Ad incredibili alti seguono clamorosi bassi. A settembre, però, Zeman è già in discussione. Va a Torino dalla sua cerima rivale in maglia bianconera e le speranze dei tifosi che il Boemo possa vincere prendendosi una piccola rivincita sono alte. La partita non ha storia. 4-1 per la Juventus. Il tecnico a fine partita dichiara «Questa non è la mia Roma» ed iniziano di conseguenza ad insinuarsi i primi dubbi sulla sua scelta. A non aiutare, tra l'altro, ci si mette il pessimo rapporto con i senatori. Con De Rossi, infatti, le cose non vanno bene e lo esclude insieme ad Osvaldo in una gara contro l'Atalanta. Daniele non è contento dei doppi allenamenti estenuanti e lo fa sapere. Zeman, incalzato dai giornalisti interessati alla motivazione per l'esclusione, risponde «Le gerarchie del passato non contano. Chi pensa ai fatti propri va fuori». Si crea proprio in quel momento una frattura profonda tra panchina e spogliatoio. I giocatori, infatti, non sembrano sopportare gli schemi del Boemo. Intanto si prosegue fino al termine della prima parte di stagione con sconfitte di un certo peso. La permanenza del tecnico, non amato dai senatori, è sempre più a rischio. Nel girone di ritorno, come spesso accade, la situazione peggiora. Sabatini, dopo la sconfitta contro il Catania e due pareggi, delegittima l'allenatore dicendo «Stiamo valutando Zeman, va bene il calcio offensivo, ma serve normalizzare i rapporti nello spogliatoio». La situazione si fa sempre più complicata e la quarta giornata di ritorno arriva una pesantissima disfatta all'Olimpico contro il Cagliari per ben 4-2. La tifoseria è rabbiosa per aver assistito a quello spettacolo che non lascia scelta la società. Il boemo viene esonerato il giorno successivo. Baldini commenta così «Mandare via Zeman è stata l'unica cosa possibile. Ovvio che le responsabilità non sono solo le sue. È stato sfortunato». L'allenatore così lascia la Roma malincuore con un altro fallimento sulle spalle. Indipendentemente che siano stati dissidi con i senatori o la mancanza dei giusti interpreti, qualche tifoso giallorosso dopo il suo esonero dice di aver tirato un sospiro di sollievo. Il suo calcio frizzante offensivo che doveva ridare entusiasmo all'ambiente non ha chiaramente portato i risultati sperati. Eusebio Di Francesco merita sicuramente qualche parola. Qualche tifoso dice di non poterlo vedere. Fatica a non inserirlo nella lista dei peggiori allenatori. Mentre altri cercando di vedere il quadro completo si chiedono come si può inserire un allenatore che al suo primo anno è riuscito a portare la Roma al terzo posto e in semifinale di Champions. Come si può inserire un allenatore che si è visto smontare la squadra con le partenze di Salah, Nainggolan, Allison e Strothman? Forse non si può. Anzi, questa volta a differenza di tanti altri casi per la maggior parte dei tifosi non è stata colpa dell'allenatore, ma bensì di qualcun altro che a Roma ha solo il nome fa tremare anche i supporter giallorossi dal cuore più forte.